ciao a tutti oggi prepareremo la marmellata di arance il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono arance pelata al vivo la buccia dell'arancia non trattata e zucchero semolato andiamo in via la ricetta mettiamo nel boccale la buccia dell'arancia lo zucchero e polverizziamo per 20 secondi a velocità 10 prendiamo un po sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo le arance le tritiamo 10 secondi a velocità 4 adesso cuociamo per 30 minuti temperatura varoma velocità 1 senza il misurino al posto del misurino andremo a posizionare il cestello per evitare che schizzi andiamo a verificare la consistenza della marmellata che varierà in funzione del tipo delle arance se dovesse risultare troppo liquida fate addensare sempre a temperatura varoma per altri cinque minuti andiamo a trasferire la nostra marmellata in dei barattoli la nostra marmellata è pronta ancora calda andremo a chiuderla con il tappo e la metteremo sotto sopra fino a quando non si sarà raffreddata del tutto per creare così l'effetto sottovuoto marmellata di arance grazie e alla prossima ricetta